e così alla fine ce l'hai fatta dopo anni sei finalmente riuscito a portarla fuori a cena guarda fernanda l'orsa maggiore eppure la stella più luminosa è qui seduta al tavolo con me tutto sembrava andare per il meglio ma proprio quando pensavi di aver trovato finalmente l'anima gemella hai scoperto che erano vax ho chiesto leggermente frizzante e qua sembra che ci sia dentro il grafene ti senti smarrito non sai bene cosa fare perché la dea cui stai facendo il piedino da 20 minuti buoni ha iniziato ad inveire contro bill gates e senti che le vostre anime non vibrano più alla stessa frequenza aiuto e adesso come faccio a portare a termine la mia missione il canale di gross presenta dieci frasi da non dire per rimorchiare una novax sai il vaccino non è l'unica cosa della pfizer che ho assunto stasera noiale non vedo l'ora di tornare a casa ed essere solo io beh i poteri forti che ci spiano sai vorrei essere il covid per entrare dentro di te e tenerti a letto per una settimana ho voglia di inocularti fortissimo ho voglia di inocularti fortissimo sai mi sa che mi sono finiti tutti i metalli pesanti del vaccino qui sotto perché ce l'ho durissimo io con te voglio una storia siera seria nulla di sperimentale lo giuro la mia serata tipo io te copertina tisanino la papaya e bio blu tv già ci vedo in primavera al sole come due piccioncini e intubare tubare tubare stavo pensando ma se salissimo da me ah non serve il green parsley che poi finché c'è la passione il romanticismo per me in una coppia dovrebbe essere come il vaccino obbligatorio ma solo over 50 brutta eh beh devo arrivare a 10 ci vediamo la prossima Grazie a tutti.